Il piacere mi stringe lo stomaco, vibra dentro di me. Dopo i tu mama tambien, sesso, bugie e videotape. Laila. David. Il desiderio li metterà insieme. Non sono una ragazza drogata dal pericolo o dal sesso, solo che a volte non so bene dove aggrapparmi per non perdere l'equilibrio. La sensualità li ossessionerà. Ti stavo cercando. Sì. La bramosia li separerà. Promettimi che non mi lascerai mai. Mai. Promettimelo. Mai. L'oscuro punto d'incontro tra amore e bisogno. Un urlo di pura estasi. Come fa una donna ad amare un uomo? Non vuol dire che sia innamorato di te. Non è abbastanza. Il sesso, secondo lei.